Chi è che ha capito un vici di scegliere? Eeeh! 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 Dai un corso, dai! Sali, alzi, si alzi! Piccali tutti! Eeeh! Eeeh! Ci temo la violenza! Eeeh! E secondo me si! Oh! Francesco non li dare a nessuno che te li rompono! Scusi! Ma non vedi che è secco? Sì! Per il Messico! Ma come era? No! No! Premi qualcosa? No! 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 Per il Messico! Eeeh! Di quella che lei ha pagato il mio ha pagato il mio ha pagato il mio ha pagato il mio conoscimento! Mi ha pagato il mio ha pagato il mio ha pagato il mio ha pagato il mio ha pagato il peccato! Non ti si mette in senso! Ma quando vede la pagato il mio ha pagato un cibo! Ci sono riconessere la pagato la cina! Ti devo fare quello che ti dice lui Francesco! Ci facendo in senso, e? Eeeh! ... che. Guardi! Ormai noi lo vediamo assieme! Ci facendo mila! ma c'erano quelli c'era la batteria che è la cucina ti piace? te lo porti vicino al letto c'è la macchina c'è la macchina il pulsante rosso il pulsante rosso il pulsante rosso no ma ciccio fai la mia ultima di Precious potrei non esserci domani ah meno male oggi festa che forza Il cellulare? Un colore a questa volta sarebbe da Giuseppe 25 dicembre 2003, mare in scaduta Sembra La gente va a trovare un paese Il strano Il pallone la superficie Il pallone la superficie Un'ultima Un'ultima Il pallone la superficie Un'ultima Formentera beach Mi stai salutando? Il fascio stai Poste marine Oggi andiamo a buttare il palamito Questa potrebbe essere l'ultima volta che vi vedete Fagli il segno stai Il segno Il segno Signorella Croce New Restyling Il segno Il segno Il segno Il segno Te l'ho utilizzato a parlare Ma se no Ecco questa la vedremo il 6 gennaio E questa il primo di novembre Ma sai che chi è il primo? La festa di Aulin Io trovo il sito normale però La festa di Aulin Aio, zitto Francia, sei sulla tv Sì, sul videolino Sei su Sky TV Aio, io devo giocare Se non ti tolgo io ti tiro Puzzo Si mangia Vai a interessare invece No, che scarso Massimo, hai letto a Laura che te l'ha regalato Il calendario di Walter Nudo No, dai A te il calendario di Walter Nudo No, vai un po' Che palle Perché lei c'è un altro Oh Eh Posso fargli un testaccio? Sì Questo perché? Eh Perché a me queste manovre in macchina Mi danno un po' di grepe Ma io sono un simpo Sono abituato a fare tutto da so Eh appunto quindi quando sei con me E' giusto Hai ragione E' tutto quello che ti piace Pratuzia Pratuzia Pratuzio, dai Non ti preoccupare Pesca in mare Pesca in mare Pesca in mare Pesca in mare Questa 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 non basta la batteria E' molto dura la batteria Eh E' qua Dipende Vedi C'è una media Un'ora Un'ora E' mezzo E' un po' più bello, è un po' più bello Ma io spedimi che sta a fare, ce ne avrai di tempo di arricchimento Ma questa batteria dura un sacco, riprendi tutto No ma il blasto che non durava un sacco, che da 60 minuti costava ancora un sacco Eh beh c'era a 22 minuto Almeno 10.000 lire al minimo Almeno 10.000 lire al minimo Eh caspita 20.000 lire pagavate? In quei tempi 20.000 lire erano tipo 2.000.000 15 minuti duravano E tutti i rametti Aioh! Tanca! Tanca! Aspetta che c'è il camioncino interessante Forse alla palosa semifiga I pescatori che ti fottono e dovevano mettendo i tiri Alla palosa Alla palosa E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra Ed è un'altra cosa Non è una rallenta Ma non trovi più come Com'è rabbà? Cos'è che stavi spiegando al zio? Aioh! Alberi Perché spegni o non devi registrare questi discorsi strani? Cos'è che stavo spiegando? Spegniiii! Mi sprechi il nastro! sai che la mossa adesso c'è la parte più bella tu ci vedi quanto è cambiata da fra dieci anni eh tutto davvero porto torre c'è io andavo in quell'isoletta a fare pesca sul bar a fare il rally perché ritorno da te questo è bello vedi riprendi questo che è stupendo a parte questa è tra l'insieme arruginita è schifosa si fa essere così soldi mi ha venduto questi e ha fatto i quattrini e chi li ha fatti comprare è rimasta portata e ha fatto pagare nessuno brutti fegri drole ma se li avevano messi nella nascosta sono già arrugginiti bravo ma la ciotola è ruota è un affare che ci hanno fatto figurati guadagneranno ma la ciotola è un'altra ma la ciotola è un'altra ma la ciotola è un'altra ma porto il Alla prossima Sto parcolando Questa c'era è troppo bellina La sacca pesantissima E' sciolto E' sciolto L'ho rimesso il tetto Allora, aspetta, non levare un secondo Allora, fatemi prima di levare questa Appena qui Allora, aspetta, non vesperà Allora, aspetta Allora, aspetta ma Allora, aspetta, non esit regarde E' inco Molto E' inserita Dover E' accoppia Sì, c'è il caffè per te. Sentami le battiglie che puoi dire. Poi c'è due battiglie. E basta, non devi fare altro. Dopodiché, mi levi la corda dal motore con il corso? Che come l'hanno passato qui è una cosa. Dammi il mozzo. Che non ci capisco nulla. Un bozzo questa cosa qua. Cosa vuol dire te la devo levare? È vero che è finita in mezzo al motore.